Dopo il tragico incidente sulla strada statale 19 nel quale hanno perso la vita una 38enne di Battipaglia e la figlia di due anni, torna ad attualità la questione viabilità. La strada statale in questione che collega Eboli e Battipaglia infatti è stata teatro più volte di gravi incidenti. Ad intervenire sul tema il sindaco di Eboli Mario Conte, il quale ha annunciato che chiederà un incontro urgente sia con la sindaca di Battipaglia che con l'ANAS per mettere in sicurezza la statale 19. Non vogliamo piangere altre vittime, ha affermato. Alla famiglia spezzata va tutto il nostro cordoglio. Preghiamo che al dolore già causato non se ne aggiunga un altro ancora più lacerante.